Cari amici di Rete Veneta, anche oggi riceviamo tanti, tantissimi messaggi, segnalazioni da parte vostra sia via mail all'indirizzo vicenzachiocciolareteveneta.it, sia via facebook sul gruppo gli amici di Rete Veneta Vicenza, sia via whatsapp al numero 351-1751866. E proprio a questo numero oggi un nostro telespettatore si è rivolto per mandarci una domanda, la sua questione è la seguente, sapete a che punto sono i lavori sul ponte di Viale Margherita? Beh, per rispondere vogliamo andare a vedere con i nostri occhi direttamente sul posto, allora venite con noi! Eccoci qua, da questa posizione possiamo godere di un'ottima panoramica sul ponte di Viale Margherita, certo in una giornata come questa di pioggia il cantiere è fermo, però da quello che ci risulta i lavori stanno procedendo secondo tabella. In questo momento gli interventi si sono concentrati sulla passerella pedonale che affianca il ponte, dove è stata rimossa completamente la struttura in acciaio che era in pessime condizioni. Adesso vengono rinforzati i sostegni per ripristinare la nuova passerella pedonale, insomma da quello che ci risulta i lavori dovranno terminare udite udite entro il 30 novembre del 2019. Insomma ancora un po' di pazienza e meteo permettendo per dicembre potremo camminare sul ponte di Viale Margherita senza queste transenne che vedete. Quindi per quanto ci riguarda la questione non finisce qui ma continua.